tre tappe quattro regioni attraversate tre giorni carichi di fascino per un evento universalmente riconosciuto come una delle manifestazioni più importanti a livello mondiale nel panorama delle auto classiche appuntamento il gran premio nuvolari irresistibile anche per chi come marzio villa una gara tutta sua già ce l'ha quella cuervo i sobrino scapp che anche quest'anno ha deliziato partecipanti e spettatori portando alcune tra le più belle auto mai costruite a sfilare sulle strade di montagna tra l'italia la svizzera e l'austria spot ideale per un marchio dall'anima caraidica sicuramente forte del dna più latino tra tutte le manifatture svizzere cuervo e sobrinos è il nome di questa gioielleria cose cuervo e i suoi nipoti sobrinos che nacque nel 1882 alla bana del gran mondo alla bana bella ed è diventato poi la gioielleria carismatica del centro sud america quando c'era tifani nel nord america e cartier in europa e hanno gestito veramente il lusso quello vero che c'era una volta e quindi ho avuto modo dieci anni fa di riprendere la marca e l'ho rilanciata mondialmente quindi sono molto soddisfatto un gentleman driver in perfetta sintonia con lo storico marchio che rappresenta marzio villa che proprio per rispettare fin nei più piccoli dettagli lo spirito di queste competizioni di regolarità a quattro ruote ha bandito dalle sue splendide vetture qualsiasi tipo di ausilio elettronico e ancora oggi ricerca il gusto della guida con lo stesso approccio pionieristico di un tempo tutte queste titolatissime gare come mille miglia eccetera così via vogliono che tu abbia la macchina assolutamente perfetta assolutamente originale non ti permettono di modernizzare niente né freni né niente deve essere tutto perfetto e poi ti fanno andare coi blitz elettronici è un non sense io vado coi cronomeccanici rigorosa attenzione alla tradizione quindi ma anche spazio al nuovo che avanza un nuovo che per cuervo e sovrino steam al gran premio nuvolari ha preso le forme di una coechipie veramente speciale a sedere a fianco del patron con il delicato compito di scandire i tempi della gara per una volta spazio alla giovanissima figlia barbara subito capace di disimpegnarsi con il cronometro e premiata al traguardo come più giovane esordiente nella celebre gara di regolarità mantovana l'ho fatta venire correndo e arrivata in aereo da madrid la considero l'altezza di quello che deve fare infatti me l'ha dimostrato stamattina già fatto tutte le tavole crono a fino alla fine della gara cioè bravissima e quindi oggi già il suo challenge che inizia un challenge subito severo e impegnativo vista anche la tipologia dell'auto una sublime ac ace roadster del 1955 dall'importante palmarès che ha coperto senza il minimo inconveniente meccanico un percorso con partenza da mantova che ha toccato località d'eccezione come modena rimini urbino siena e ferrara la macchina è una macchina di grande performance ha vinto sempre ho avuto un suo curriculum addirittura attaccato su una piastra che ho fatto con un grosso pilota inglese alla prima gara l'ha vinta addirittura prima di essere immatricolata appena uscita dalla fabbrica e la dimostrazione che il binomio auto e segnatempo non conosca confini lo dimostra una manifattura che è pronta ora a varcare i confini nazionali per raggiungere addirittura l'estremo oriente dove tra pochi giorni prenderà il via la mille miglia japan e dove cuervo i sobrinos sarà rappresentato da un driver di assoluta eccezione come giordano mozzi un pilota che la mille miglia tricolore quella con partenza da brescia la messa in bacheca anche in questo 2014 e che indosserà al polso un segnatempo di manifattura magari della serie historiador vintage con quelle linee ispirate ai magici anni 50 con i piccoli secondi alle 6 elegante e senza tempo un orologio per esteti con quadrante soleil grigio o magari l'istoriador flameante blue edition con casa in acciaio o in oro da 40 millimetri in serie limitata appariscente appagante nel suo cinturino in alligatore della louisiana e in un quadrante dai toni profondi impreziositi dalla finitura flameante senza dimenticare quello spirito cuervo i sobrinos che emana dai modelli come l'istoriador racing segnatempo voluto fortemente da marzio villa per la quervo i sobrinos cap 2014 e capace di riscuotere immediatamente grande successo a livello internazionale solo tempo condatario in una cassa da 40 millimetri in acciaio pensato inizialmente per gli equipaggi in gara e trasformatosi in un must have grazie al particolare design di un quadrante che riproduce una ruota a raggi con tanto di gallettone e attraverso i quali è possibile ammirare il meccanismo di un calibro automatico con riserva di carica di 38 ore anche questo un biglietto da visita di una manifattura nata nella lontana l'havana nel 1882 che oggi come allora condivide una sua filosofia del tempo davvero unica un tempo lento eppure alla fine contagiato dalla proverbiale precisione svizzera